Non basta andare in giro a dire che noi siamo sempre peggio degli altri paesi. Con le energie rinnovabili noi ci abbiamo messo, è vero, molti soldi, ma oggi siamo il paese che ne produce di più in tutta Europa e forse in tutto il mondo, diciamocelo. Ci abbiamo investito un sacco di soldi, siamo stati bravi. L'agricoltura, io vado in Europa a testa alta perché ho l'agricoltura di qualità più elevata in tutta Europa e posso dire ai consigli ambienti e ai miei colleghi che la mia agricoltura emette molto meno CO2 della loro. Allora se siete bravi, diciamocelo, basta andare sempre in giro a dire che non abbiamo pazzo. Abbiamo mille problemi, ma diciamoci anche quello che abbiamo fatto. Abbiamo delle eccellenze in questo campo, dobbiamo continuare. Certo, tutte le strategie che il Paese, che il governo sta facendo, mettono al centro proprio i cambiamenti climatici. Se tu Weber vai a vedere la SEM, la strategia energetica nazionale, una volta veniva fatta sulla competitività delle imprese, giusto? Oggi viene fatta sulla riduzione di CO2. Al primo punto vedi riduzione di CO2 perché quello è per noi l'elemento fondamentale, l'elemento primo e io credo che questa sia, lo dico agli agricoltori in particolare, non è un vincolo, state attenti. Lo dico ai più giovani in particolare. Non vivete le politiche economiche collegate ai cambiamenti climatici come un vincolo. Per voi deve essere l'opportunità perché il futuro è lì. Oggi chi investe nell'economia circolare, anche in agricoltura, chi investe in agricoltura di qualità, sarà più competitivo nella quarta rivoluzione industriale. Se voi ragazzi mi chiedete su che cosa sarà competitiva, qual è la sfida che avete davanti per trovare lavoro nel futuro, per fare gli imprenditori nel futuro, vi dico sicuramente la robotica, la domotica, la digitalizzazione, l'informatica, ma vi dico anche l'economia circolare e le politiche ambientali. Perché lì si farà la competizione fra le aziende. Perché chi fa economia circolare sarà capace di avere una redditività migliore degli altri. E avrete anche la soddisfazione di dire sto facendo qualcosa non solo per la mia impresa, ma lo faccio anche per gli altri. Che poi è il simbolo della cultura della Coldiretti. Quindi io credo che questa sia una grandissima opportunità. E poi abbiamo un altro filore, che è quello di adattare il nostro territorio. Allora è chiaro che noi quest'estate abbiamo avuto la siccità molto forte e abbiamo reagito abbastanza bene. E qui mi voglio prendere un po' di merito, scusa, perché noi abbiamo reagito abbastanza bene, soffrendo in certe zone, perché era un anno che ci preparavamo, perché esistevano degli osservatori che abbiamo costituito otto mesi fa, che hanno permesso di gestire bene fino all'ultima goccia. Abbiamo preso tutti coloro che avevano competenze sulla gestione dell'acqua e una volta alla settimana, da sei, otto mesi, si sono incontrati per vedere quanto dare all'agricoltura, quanto dare agli usi civili, quanto dare alle zone che avevano più bisogno. E questo ci ha permesso non di passare un'estate tranquilla, ma di limitare i danni.